Commento al Vangelo di lunedì 24 ottobre 2022, a cura di Don Vincenzo Marinelli. Donna, sei liberata dalla tua malattia. È bastato un attimo a Gesù per liberare una donna inferma da 18 anni, a causa di uno spirito. A volte pensiamo che il tempo sia un nemico imbattibile che divora continuamente il nostro presente e condiziona il nostro futuro. Tutto quello che finisce tra le sue mani sembra che non si possa più riprendere. Col trascorrere degli anni vediamo accrescersi la sua forza e condizionare la nostra libertà e le nostre scelte. Piangiamo, lottiamo e soffriamo perché dobbiamo accettare ciò che invece avremmo voluto che fosse stato diverso da come. Invece, lo abbiamo vissuto. I genitori, lo studio, il lavoro, le amicizie, la propria vocazione. Ma se anche avessi passato gli ultimi 18 anni peggiori della tua vita, il Vangelo ti dà una buona notizia. Se credi che tutto è perduto, questo annuncio ti risulterà addirittura provocatorio. Gesù può ancora aiutarti a sciogliere i nodi del tuo passato. Puoi finalmente vivere libero dal risentimento, dal rimorso, dalla rabbia che ti ha dominato per tutto questo tempo. La pace è un dono disponibile anche per te. Non sei più condannato a gustare solo delle briciole di felicità. Gesù è il tuo liberatore. Se gli apri il tuo cuore e credi in Lui, troverai la pace a cui anelli da tempo.